Ciao raga, benvenuti nel mio studio nuovamente, è passato un po' di tempo ma perché sapete sono tantissimo impegnato però le aziende mi mandano ancora prodotti molto molto fighi da provare e solo in più interessanti porto in una recensione completa qua sul mio canale, lo sapete oggi vi parlo di bluetti e di questa stazione di ricarica raga oggi sono con la stazione di ricarica EB3A di bluetti, stazione di ricarica portatile che ho utilizzato per ben due mesi in questi due mesi mi è servita tantissimo perché a volte noi filmmaker abbiamo bisogno di corrente vera e propria anche dove non ce n'è oppure abbiamo bisogno tante volte di ricaricare le nostre batterie perché ovviamente quando si lavora su un setto quando si lavora in giro abbiamo proprio bisogno fisicamente che le batterie siano tutte cariche e via del drone e quelle delle macchine fotografiche dei computer e di tutti i dispositivi che ci possono servire in un determinato lavoro bene, questa bluetti mi ha salvato la vita veramente in tantissime occasioni non pesa tantissimo perché ha la sua maniglia di trasporto e la porti tranquillamente in giro ha un sacco di porte per le ricariche dei nostri dispositivi infatti troviamo delle usb troviamo la classica 220 troviamo anche una simpatica torcia io ve l'accendo vi faccio vedere come è accesa vedete ha un display che indica sia la capienza attuale sia nel momento in cui mettiamo un dispositivo a ricaricare o diamo energia a qualche dispositivo il consumo effettivo della stazione di ricarica quanto sta dando insomma di energia a questa torcia simpatica che magari in qualche occasione potrebbe anche servire sia per illuminare un luogo sia per segnalare un pericolo un'emergenza anche la possibilità di essere ricaricata col classico cavo da autovettura dell'accendisigari vi faccio vedere ad esempio come funziona la ricarica wireless perché anche sopra ha un piano dove ricaricare i nostri dispositivi in maniera wireless appoggio il mio cellulare il mio iphone la accendo e avete sentito è partita la ricarica del mio iphone molto molto comoda quando si è in giro raga io ormai non ne faccio più a meno la tengo carica e la porto con me in macchina perché non si sa mai ho bisogno di correnti ho bisogno di illuminare un faro ho bisogno di qualsiasi cosa che viene in mente io l'ho fatta e funziona davvero vi vado a leggere due dati tecnici e mi avvalgo del computer perché sono dati tecnici che difficilmente mi restano in mente abbiamo detto che la capacità di questa stazione di carica è di 600 watt la batteria permette oltre 2500 ricariche perciò raggiunge a tutti i dispositivi di da quella botta fino all'ottanta per cento ed è tanta roba credetemi sei modalità di ricarica sia con lo spinotto normale da corrente sia addirittura tramite pannelli solari che in questo momento non ho però c'è la possibilità di prendere attraverso il sito da bluetti anche i pannelli solari e ricaricarla insieme pannelli solari addirittura in contemporanea tra corrente a pannelli solari vi da una ricarica veramente forte in modo tale che avete il pieno di energia subito disponibile come vi dicevo otto porte di uscita per caricare dispositivi multipli contemporaneamente non una alla volta contemporaneamente questa è una figata assurda facile da trasportare come avevo fatto vedere che ha la maniglia per il trasporto molto molto semplice fatta bene pesantuccia più o meno dai non è tantissimo pesante la cosa che ho notato che quando ad esempio stiamo dando tanta energia a tanti dispositivi in contemporanea mi è capitato ad esempio di ricaricare le batterie del drone e le batterie della videocamera si accendesse una ventola infatti qua laterale vedete dei buchi delle ventoline che girano danno aria così l'utilizzo è proprio sicuro non può non va a sorriscaldarsi non c'è pericolo di incendio non c'è pericolo in nessun modo si autogestisce si autoraffredda e raga a me ha salvato davvero la vita in tante occasioni bello lo schermo bellissimo lo schermo ops bello lo schermo a colori vedete qui mi da la percentuale residua all'interno della batteria se ad esempio metto il mio telefono guardate qui in output in uscita mi da la potenza che sta erogando per ricaricare il mio dispositivo molto figa raga molto molto bella io ve la consiglio sul sito ha un prezzo di 299 euro scontata perché di solito costa 100 euro in più dunque se come me avete quasi sempre bisogno dell'energia l'energia è una fonte indispensabile credo per ognuno di noi ma magari per chi fa il mio lavoro magari ha bisogno sempre 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 di energia bene a 2 99 raga sono soldi ben spesi lo sapete io vi parlo solo e soltanto di quando le cose le provo effettivamente forse avrete visto già nelle storie che ve ne ho parlato ve l'ho fatta vedere mentre utilizzavo però continuate a seguirmi anche su instagram perché ve la faccio vedere poi quando staremo su un set vi faccio vedere cosa puoi effettivamente andare ad attaccare io insieme a matteo l'abbiamo l'abbiamo utilizzata collegando addirittura due faroni per illuminare un set di una scena e lei non ha dato nessun problema e addirittura gli ho collegato una stampante a sublimazione per andare a stampare delle foto funzionato perfetta perciò secondo me è una roba da tenere in macchina sempre e da portare in alcune situazioni raga spero che il video vi sia piaciuto se avete domande ovviamente scrivete nei commenti mettete like iscrivetevi se non l'avete ancora fatto io spero che bluetti mi mandi qualche altro modello un po più potente da presentarvelo e soprattutto da farvelo vedere all'opera in qualche in qualche set in qualche avventura magari col pit e in qualche bosco ad illuminare qualcosa insomma mi inventerò qualcosa per farvela vedere veramente nell'utilizzo vero no e non mi resta che salutarvi e ci vediamo al prossimo video ciao raga